Qualche d'uno potrà chiedersi ma cosa vuol dire medicina quantistica? La medicina quantistica evidentemente è derivata direttamente dalla fisica quantistica. La fisica quantistica è quella parte della fisica che studia l'ultrapiccolo, il comportamento degli atomi, il fatto che un atomo venga eccitato, ma un atomo che è eccitato vuole tornare nella condizione di riposo buttando fuori dei fotoni, ovvero quanti di energia. Bene, allora la medicina quantistica studia il comportamento degli atomi di cui noi siamo composti, ci tengo a precisare che il 70% del peso è acqua e il 99% sono molecole d'acqua nel nostro organismo, voi capite bene qual è l'importanza. Bene, il comportamento, l'emissione di energia quantica da parte degli elementi che compongono il corpo umano.